Ancora una barzelletta con l'ospite, il gatto Gargamella, che ci porterà tanta fortuna, eh? Porti fortuna Gargamella, mi raccomando, eh? Allora, ci sono due matti che sono appena usciti dal manicomio. Dopo tanto tempo il manicomio camminano per strada, osservano finalmente le strade, le piazze, che da tanto tempo non vedevano, ma a un certo punto sul macciapiede notano una chiazza marrone. Allora uno dei due fa, beh, sta attento, sta attento perché è cacca. Allora l'altro fa, ma no, ma che dici, è cioccolata, no? Perché la cacca sul macciapiede quella è cioccolata. Ma ti dico che è cacca, no? Ma sul macciapiede voglio che ci sia la cioccolata. Allora cominciano una discussione, questa ti dico che è cioccolata, con l'altro c'è solo una cosa da fare, assaggiarla. Allora uno dei due, con un dito, prende, assaggia. Avevi ragione tu, era cacca. Meno male che non l'abbiamo pestata. classesla. Assaggia. Assaggia. Grazie a tutti.